Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash, io sono Glacier Sphere ed oggi siamo a Mentania, andremo poi verso Forestopoli nel percorso 118 e 119 dopo aver visitato Mentania. Salve, a Visitor? We don't get many of those, non riceveva molti visitatori, e infatti Mentania è una città abbastanza piccolina, con praticamente niente dentro. I'm boicotting the stores, they have a monopoly on the selling of items, questo sta boicottando appunto i market perché hanno un monopolio nella vendita degli oggetti, e questo qui venderà solo bacche, quindi abbastanza inutile, però almeno lo sapete. Questa grotta è inaccessibile per ora, è troppo pericoloso per te, esattamente. Qui abbiamo il contest, e vediamo un po' cosa c'è qui dentro, salve. Questo ci insegnerà Gastroacid, vediamo che lo può imparare nessuno, perfetto, niente da fare. Tu invece? Niente, a lui piace guardare gli altri, non è qui per partecipare. How did a fossil lose? They are so rare. Questo ha perso pure con un fossile, e niente, abbiamo mancato la deadline per iscriverci. A questo punto, andiamo qui sotto, salve. Questo è il suo giardino di fiori, ha detto di stare attenti, e noi ci siamo stati molto attenti, infatti. Nessuno strumento invisibile qui? Nada. Visitiamo queste tre case alimentari, nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, come sempre, e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Questo tizio non dice niente, andiamo invece in questa seconda casetta, salve. Prendi questo, non ne ho più bisogno, è nisir, ce lo regala così, quindi perché non prenderlo, d'altronde. E andiamo poi qui. Salve. I've been scamming a guy for weeks by sending him bad items. Have one, I've got too many to count. Questo tizio ha detto che sta fregando un tizio da settimane vendendogli oggetti inutili, e poi ce n'ho dato uno. Va bene, grazie. Andiamo a questo punto, di nuovo a Mobile City, ci volo direttamente senza tornare nel percorso. E a questo punto possiamo seguire il suggerimento di Norman e andare nel percorso 118 a est di Mobile City. Allora, gli abbiamo trovato uno Stardust, e qui ci saranno un botto di allenatore, ragazzi, quindi direi di andare veloci, cercare di batterli nel minor tempo possibile e via. Shroomish contro Swallow. Andiamo di aerosalto, non dovrebbe riuscire a resistere. E invece resiste Worry Seed. Ok, ci ha tolto l'abilità, vabbè, fa niente, non è importante. Pokémon da Rosella, lasciamo Swallow, e andiamo di volo a questo punto. Visto che aerosalto non ha... Toxic Spikes, va bene, non è un problema, tanto non sostituirò il Pokémon. Appunto, dato che aerosalto non ha one-shotato il tipo prima. Oh, è adorabile, ma è adorabile cosa che ti ho appena disintegrata. Vabbè, salve. Battiamo anche lui. Tu sei un Rocker. Che manda in campo Pikachu, a livello 2. Eh? Come scusa? Beh, andiamo di attacco rapido, sperando che non ci paralizzi. Appunto, come non detto. Come non detto proprio. Vabbè, Did Iwin? Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Maybe I did win. Yeah, you lost. Boh, questo è completamente rincoglionito, ragazzi. Andiamo a curarci con un antiparalisi che non abbiamo, quindi siamo una full heal. Ecco, fatto. E proseguiamo. Strumentini? Strumentopoli? Ah, ho spaventato i pesci che sono scappati. Quanto mi dispiace. Caro Fisherman. Che manda in campo Carvania. Lui dovrebbe avere carta vetro come abilità. Quindi mi sa che ci faremo un po' male usando volo. Però perlomeno lo mo' shottiamo, infatti. Eccolo lì la carta vetro. Meglio pelle vetrata. Pelle di vetro. Non so come venga tradotta in italiano, non mi ricordo. Comunque sì, l'abilità è quella, comunque. Allora, mandiamo in campo Swellow ora. O meglio Grovai. Qui sotto c'è... Penso uno strumento. No, davvero? Niente. Peccato. Speravo di trovare uno strumento qui sotto. Combattiamo contro questo marinaio. Sperando che abbia dei Pokémon di tipo acqua e non lotta. Perché solitamente i marinaio è anche un Pokémon tipo lotta. Niente, è un Magnemite. Non si sa per quale motivo, però ce l'ha. Userò Giga Drain. Magnet Rise, va bene. Giga Drain. Ghiroball. E altro Giga Drain. Così mi refullo anche un po'. Vediamo chi manda lui. Nivello 29. Magra Marzia, a questo punto cambiamo Pokémon e lo mandiamo con Baskin. Vai con Baskin, con la tua fuoco carica. Vai, Flame Charge. Ah, non è morto? Va bene. Useremo Ember, allora. Brascere. Ember, non so per quale motivo mi ha fatto venire in mente ora un film di alcuni anni fa che si chiamava Ember, il mistero della città di luce. Non so se l'avete mai visto. Io lo vidi al cinema e mi piacciono abbastanza. Ero anche piccolo. Piccolo, oddio. Per certi versi. Mi sa che avevo avuto tipo 15 anni, più o meno. Allora. Contro loro due mandiamo... Ma sì, dai, Grovall e con Baskin. Tutte e due. Vai. Vediamo un po' questa lotta. Penso sia una lotta in doppio, sì. Contro due fanta allenatori. Due contro due. Ah, Nidoquin e Nidoking. Azzà. Ok, questo è un po' difficile. Allora. Andiamo di Energy Ball su Nidoking e di Brick Break sempre su Nidoking. Focus doppio. Ah, mi ha confuso, peccato. Oh, riesce comunque ad attaccare, buono. Dinami Pugno e Missa. Perfetto. Ah, non è molto efficace però, mannaggia me. Andiamo di Energy Ball su di lui e di, a questo punto, Flame Charge su... Mi sa che muore Grovall, eh sì. Forse però il nostro... Azzà. Ok, Nidoking riesce a morire. Riusciamo a buttare giù Nidoking, però ci hanno avvelenati. Ok, bounce e rimbalzo, giusto? Di tipo volante. No, no, no. Meglio tenerci al salto. A questo punto, contro di lei, mandiamo, direi, Core Fish, vai. Così si prende un po' di punti esperienza e andiamo di Crab Hammer. Mentre contro di lei andiamo ancora di Flame Charge. Dinami Pugno. Per fortuna faldisce di nuovo. Ecco fatto. Abbiamo tirato giù anche questi due fantaneatori. Core Fish a livello 30. Ottimo. E Core Fish inizia a voler s'evolvere. Noi non lo faremo evolvere. E sapete cosa facciamo anche? Per evitare che ad ogni livello dobbiamo togliergli l'evoluzione. Gli diamo un oggetto chiamato Pietrastante. Euclop, Everstone, vai. Tutta tua. Sì. Tanto è solo una mossa di tipo acqua. Potenziare quella non è proprio indispensabile. A questo punto andiamo a darci una curata veloce Pokémon. Nota che quei due fantaneatori ci hanno dato il filo da torcere. Però mi piace che la difficoltà si sia riassestata. Dopo comunque un inizio di regione molto molto facile. Ok, proseguiamo. Qui tra l'altro potremmo pescare, però con l'amo vecchio. Eccolo qui. Con l'amo vecchio potremmo prendere un Pokémon che non l'abbiamo ancora preso. Vediamo se lo troviamo. Vediamo se viene su. Phoebas, eccolo qui. Possiamo prendere lui. E andiamo di Velox Ball, come al solito. No, non Dusk Ball, Quick Ball, vai. Prendiamoci lui. Un altro Pokémon che si aggiunge al nostro Living Dex. Perfetto. No, non voglio dare il soprannome. E proseguiamo. Ma vedete che il nostro Grovile possa imparare Iperraggio. Così, giusto per vedere. Dov'è, dov'è Iperraggio? Dov'è, 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 dov'è? Hyperbeam? Qua, eccolo. Può imparare? No, non lo può imparare. Volendolo potrebbe imparare Swell o Vatorqual, ma non penso di volerglielo insegnare. Toxic potrebbe imparare il nostro Swell, il nostro Grovile. Non sarebbe male insegnargli. Al posto di... Beh, Assurance è comunque una buona mossa da tenere. Potrei togliere il Quick Attack e dargli comunque Toxic. Che non è per niente male. Contro il Pokémon magari un po' più ostice. Salve Pignamosche. Che stai pescando. Non si sa bene per quale motivo. E infatti è comunque da Pokémon di tipo Elettro. Anzi, è con le otto. Non so perché abbia detto Elettro. Allora, contro Beedrill direi di cambiare Pokémon immediatamente e di mandare Swellow. Ora, me lo avvelenerà molto probabilmente. Ah no, che ha usato Garanzia. Va bene. Io userò Volo. Penso che con un aeroassalto non lo butti giù. Volo però, sì. Perfetto. Oh, un bel po' di punti esperienza per entrambi. Ottimo. Anorith. Tipo Coleottero Roccia, se non sbaglio. Se no, ricordo male. E infatti all'acciaio è super efficace. Ha Bug Bite. Fa così male. Mannaggia a lui. Comunque è molto bello Anorith come fossile. Bellissimo. Guarda, vedo questi fossili e poi penso quelli dell'ultima generazione che è uscita. E mi piange un po' il cuore. Cioè, vedo questi fossili qui che sono bellissimi. Poi penso ai mashup che hanno fatto negli ultimi fossili. E davvero, che brutti. Allora, Paras. Cambiamo Pokémon e mandiamo con Baskin. Perché ho paura che Paras abbia Spargisporre. E se lo tocco qualcosa mi attacca la Broncopolmopeste. Quindi no. Andiamo con Ember. Ecco, fatto. E sapete cosa? Ormai il nostro caro con Baskin è meritevole di imparare una mossa un po' più forte. Che dite? Un bel flamethrower, eh? Al posto di Ember. Direi che glielo possiamo dare, dai. Ecco qua. Poi, qui ho già controllato, non c'è nulla. Qui mi sembra che ci sia qualcosa. Ecco, ho fatto una scuola a cuore. Qui, nada. E un altro allenatore. Vai, mandiamo ancora a Grovile. Tu dovresti avere tipo acqua, spero, no? Not now, I need to focus. Deve concentrarsi, lui, attenzione. Deve concentrarsi assolutamente. Ma nel campo Carvana noi useremo Mega Assorbimento. Anzi, Energy Ball. E addio Carvana. O Carvania, tecnicamente. Slam! Vediamo. No, è una merda. Via. Carvania di nuovo. Sì, che sarebbe Piragna. No, quindi sarebbe corretto chiamarlo Carvania. Ecco fatto. Lost it. Eh, mi spiace per te. Andiamo su. Qui abbiamo forse dei Pokémon selvatici nuovi. Però proseguiamo con gli allenatori prima. Non sei degno di me, mi ha detto questo. Ma come osi? Ma sei un avicoltore, tra l'altro. Evolbit. Ma cosa vuoi... Vabbè. Ma cosa vuoi insegnare? Andiamo prima di tutto con Giga Drain. Ah, non è molto efficace, giustamente. Se il mio raggio mi fa malissimo. Cambiamo Pokémon. Sì, sì, cambiamo assolutamente Pokémon e mandiamo Swallow. Sì, sì, usami il segno raggio. Ora. A tuono. Cos'era questa predict incredibile? Scusami. Cos'era questa previsione assurda? Ok. Livello 31 per Swallow. Hai lost? Sì, hai perso. Vediamo se ci sono degli strumenti qui. Un ferro. Ecco, fatto. E proseguiamo. Allora, direi di dare magari un paio di cura ai nostri Pokémon, anche dite. Qualche pozzoncina, tanto l'abbiamo comprato, usiamole, no? Ecco qua. Ecco, fatto. Vai. Salve. Hi, good luck. Ciao, buona fortuna ci dice questo tipo. Va bene. Swallow manda. Tipo Drago Volante, se non ricordo male. Quindi in ogni caso non li faremo molto con nessuna delle nostre mostre. Forse con Assurance un po'. Azza. Azza. Assoluto giga drain. Assolutamente. Devo rifullarmi un po'. Beccata. Azza. Oh, fa davvero male sto Swallow, eh? Grovile. Non è proprio il Pokémon adatto ad affrontarlo. Però si prende comunque a livello 31. Grounded. Sì, sto giocando anche a Grounded. Sto portando una serie sul mio canale. Se vi va, andatelo a vedere. È molto carino come gioco. Leafstone. Pietra Foglia. Allora. Qui sotto abbiamo fatto tutto. Direi di provare a vedere se ci sono dei Pokémon nuovi. Oh, Brilum. Sì che c'è un Pokémon nuovo. Tecnicamente abbiamo già Shroomish che potremmo far evolvere. Però dovremmo catturarne un altro. Quindi io direi di fare un tentativo con questo Brilum. Vedere se lo catturiamo instant. Così da completare anche la sua linea evolutiva. Perfetto. Brilum catturato. Ecco qua. Si stanno andando tutti le box di Ash. Poi io lo chiamerò. Facciamo come al solito tre tentativi su questo percorso. Whipping Bell ce l'abbiamo già. Direi di shottarlo con lanciafiamme. Vai. Flamethrower. Ecco lui infatti c'è usato questa mossa qua da stronzi. Via. Altro tentativo. Ultimo tentativo. E poi saliamo. Annanzi di if. Anche lui non ce l'abbiamo. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Bag. Quick Ball. Vai. Adesso riusciamo a prendere anche lui al primo colpo. Ah è uscito. Mannaggia lui. Mannaggia lui. Ok inizia a usare il rotolamento. E fortunatamente fallisce. Io andrei di Body Slam. Non dovrei tirarlo giù. Infatti vita rossa. E poi andiamo di Level Ball. Dov'è? Level Ball. Vai. Da quello che so se il tuo Pokémon è di due livelli più alto del Pokémon Bersaglio. ha molta, molta probabilità di cattura. Se non sbaglio sono migliori delle Ultra Ball in quel caso. Ok. Erba buio. No, non voglio soprannominarlo. E a questo punto si prosegue lungo il percorso 119. Andiamo un'occhiata in giro. Ecco, lungo il percorso 119. In realtà potremmo prendere anche dei nuovi Pokémon. Qui nell'acqua. Ma andiamo al Corfish davanti. Anzi, Grow Vile, meglio ancora. Grow Vile. A cui diamo poi un paio di pozioni. Ecco qua. E... Dobbiamo usare l'amo buono. Eccolo qua, dai. Usa. Era già registrato, scusatemi. Però non me lo ricordavo. Vai. Vediamo se viene su un Pokémon nuovo. Un Kheridos. Bello, ma non è nuovo. Bello, ma non è nuovo. Così, via. Andiamo ancora di... Amo. Vediamo se... Abbiamo capito che con l'amo buono iniziamo a tirare il suo gente forte, eh. Polidrat, ripeto. Bello, ma non è nuovo. Andiamo di Giga Drain, così ci refulliamo. Ecco, ho fatto. Lo usiamo come pozione. E facciamo l'ultimo tentativo. Vai. Vediamo se viene su qualcuno di interessante. No, niente. Andiamo a Polidrat. Peccato. Peccato, davvero. Fuga. Facciamo tre tentativi anche nell'arbalta qui, mentre andiamo a battere quell'allenatore. Oh, Igglybuff. Ce l'abbiamo già lui. Ho fatto le uova con Igglybuff praticamente già accanto. Allora, mettiamo davanti contro quello che sembra essere un Pigliamosche, ma andiamo direttamente a Torqual. Vai. E ricominciamo ad usare Torqual dopo averlo messo per un attimo in panchina, eh. Eccolo qui. Andiamo di Flamethrower. Beh, lui usa agilità, perfetto. Giustamente vuole morire prima. Livello 31 per Torqual. E a questo punto possiamo rimandare davanti Quartfish. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui sotto, eh. Strumentino? Nope. Un altro Pigliamosche? No, prima c'è un Pokémon selvatico. Uno Shroomish. Ma abbiamo completato la linea evolutiva degli Shroomish, quindi niente da fare. E subito dopo ci spotta questo allenatore. Douglas, che manda in campo un Ninkada. Ok. Ninkada potrebbe prendersi. Un bel Krabhammer in faccia, che potrebbe shottarlo, infatti. Poi, Ninkada di nuovo. Beh, chissamo noi per non cambiare Pokémon. Krabhammer. E addio. Perfetto. Strumentino, Elisir. E vediamo se ci siamo persi qualcosina qui dietro. Nope. C'è solamente quel Pigliamosche. E un altro Brelum. O Brelum. Via. Usciamo dall'erba alta. Vediamo qui dietro se c'è qualcosa. Strumentini nascosti qui, magari. Nope. Almeno per quello che ho controllato qui non c'è. Perfetto, come questo ponte sospeso nell'acqua. I need a break, ci dice. Gli serve una pausa. A questo povero pescatore Eugene. No, ma hai sei Magikarp. Sei il tizio con sei Magikarp? Andiamo di Night Slash. Oppure direttamente di X-Sysor. Forse gli facciamo più danno. Flagello. Va bene. Azione. Fortino comunque questo Magikarp. Beh, per carità, il livello 32 ci sta che sia comunque un minimo forte. Tentacool. Lasciamo il nostro Corfish. Andiamo di Night Slash. Ah, ci ha fatto parecchio male. Ci ha fatto malissimo, anzi. X-Sysor non credo sia super efficace contro il veleno, anzi infatti non è molto efficace. Dato che Corfish rischia di morire male, mandiamo Grovile. Water Pulse, sì, sarebbe morto malissimo il nostro povero Corfish. Andiamo di Giga Drain e refulliamoci. E ecco fatto. Poi Carvania, lasciamo Grovile. Andiamo di Energy Ball. Poi, chi mandi? Feebus. Lasciamo di nuovo Grovile. E andiamo a questo punto addirittura di Assurance. Non dovrebbe essere un problema. Ecco, fattolo. Bishottiamo. Di questo pescatore ho pescato una grandissima varietà di Pokémon, ma non erano troppo forti. Allora, volevo andarne allo zaino, grazie. E tirarmi qualche altra pozione sul mio Corfish. Ecco, fatto. E dobbiamo allenare lui ora. Quindi si va da questa parte. Si continua. Hey, be careful. Hey, fai attenzione. Va bene? Caro il mio Pokémon Ranger Jackson. Che manda in campo Brelum. Noi con i Scissor potremmo fargli molto male. Aia. Palmo Forza fa malissimo. Ok, no. Si cambia Pokémon. Si cambia Pokémon e si manda su Hello. Per forza qua, ragazzi. Altrimenti i Corfish si prende un altro Palmo Forza in faccia e muore. Andiamo di Aero Assalto. Danno 4 perte e dovrebbe morire. Ah, mi ha pure addormentato. Va bene. Va bene, Brelum. Intanto il mio Corfish sale di livello. Era quello che volevo. E mettiamo davanti a questo punto di nuovo Grovile. Vai, mettiamo lui. E diamo una curatina a Swallow. Ed anche a Corpige, già che ci siamo. Vai. Poi il Fulial, eccolo qui. E già che ci siamo, mettiamo davanti anzi con Baskan. Vai. Anzi, sapete cosa? Dato che con Baskan poi lo sostituiremo con Snorant, quando Ash lo otterrà. Mettiamo davanti Torqual e cerchiamo di allenare di più lui. Con Baskan lo teniamo come Pokémon di riserva. Tanto abbiamo già un Pokémon di tipo fuoco. Ok, Swirlskid. È già di tipo acqua lui? È già di tipo coliottero acqua? Vediamo. Sì, è già di tipo acqua anche. Body Slam. Vai. Sì, sì. Usa pure agilità. Perfetto. Altro Pigna Mosche. Isn't It Wonderful Outside? Non è bellissimo all'esterno? Ma va bene. Se lo dici tu. Volbeat. Che si prenderà un lanciafiamme e che se lo ricorderà per tutta la sua breve vita. Ecco, fatto. Poi, chi mandi? Illumins. Va bene. Eh, fatemi colpire ancora per primo. Ah, peccato. Struggle Bug. L'attacco speciale diminuisce, ma comunque... No, non riusciamo a buttarlo giù. Mannaggia lui. Azza. Azza, azza, azza. Ok, fortunatamente. Ok, siamo entrati in un loop. Questa è una cosa da evitare assolutamente. Assolutamente sì, perché lui continua ad usare Moonlight. Non so se sia un loop effettivo. Ok, è finito più della mossa. Sì. Attenti quando questo Illumins usa Moonlight perché a quanto parlo il gioco crascia. State attenti. Molto attenti. Ora, tra l'altro appunto, per essere sicuri fatemi salvare un secondo. Ecco, fatto. Giusto per stare sicuri che non ci sia un altro bug che mi fa crashare il gioco. Vi ricordate a Yoto che era successo? Vai, altro allenatore. Are you trying to get in the forest? Stiamo provando ad andare nella foresta. Boh, a quanto pare sì. Dato che stiamo andando a forestopoli. Puciena. Bellino lui. Andiamo con Flamethrower. E addio Puciena. Poi, altro Puciena. Sì, cambiamo Pokémon. E mandiamo direttamente Corpish. Deve allenarsi anche lui, eh. Contro questi Pokémon deboli conviene mandare Corpish che si prende un po' di punti esperienza. Poi tira... Tira Break Break. Super efficace. Addio. Altro Puciena. Vai. Perfetto. Proseguiamo. Allora, a nord cosa abbiamo? Nulla. A nord non abbiamo esattamente niente. Però qui abbiamo una Picnic Girl, credo. No, è una che studia archeologia. Ed è una Pokémon Ranger. Calista. Va bene. Ah, contro Baltoid. Direi di usare comunque Lanciafiamme. Rapigiro ci ha usato, va bene. Aumento la sua velocità. Ma questo non gli servirà a nulla, dato che morirà comunque. Addio. Giustamente studia archeologia ed a un Baltoid. Aspetta un minuto. No, non aspetto niente. Si corre in questa parte, ragazza. Ci sono troppi allenatori. Ci sono troppi allenatori in questo percorso. Bisogna andare abbastanza spediti. Aha! Sfida in doppio contro i due Pignamosche. Mandiamo su Hello. No, non volevo volare. Volevo... Volevo switchare, semplicemente. Ecco qua. Mandiamo su Hello e Torquoal. Vai. I miei Pokémon sono migliori. Sono più belli. E i miei Pokémon sono più belli. Ok, questi sono due cloni, credo. Donald e Taylor. Che mandano in campo a due Brunpole. Davvero? Allora, sapete cosa faccio? Heartquake su entrambi. No, non so se gli shot, però, con Heartquake. Facciamo il rassalto e lanciafiamme, che sicuramente muoiono così. E non stiamo a buttare via turni. Addio, Brunpole. Pokémon Andy, Beautifly e Dustox. Perfetto. Lanciafiamme e volo. Vai. Ah, bello, Lil. Quick Low. Suello è a livello 32 e vola in alto. Beautifly usa Air Cutter, ma Suello evita l'attacco. Allora, lanciafiamme su Kaskun. Arriva al volo su Beautifly. Perfetto. Addio Kaskun. Così ci facciamo anche nel Pokédex tutte le linee evolutive di Kaskun e compagnia. Di Brunpole in generale. Andiamo di Body Slam e aerossalto. Ok, Body Slam è bastato. Forse il terremoto sarebbe bastato, per dire la verità. Agilità, no, grazie. The coolest. Cooler. Dustox are much better due to their strength. Beauty Fire much better due to their beauty. Eh, va bene. Uno è migliore perché è forte, l'altro è migliore perché è bello. Qui troviamo una pietra sulla aree. E altri Pokémon selvatici. Vediamo se è qualcuno che non abbiamo ancora preso o no. È Dutrio. Va bene, è Dutrio. Non capisco perché tu stia qui. Ma dettagli. Sapete cosa ti faccio? Ti faccio un bel terremoto. Ecco. Addio, Dutrio. Tanto non mi avreste lasciato fuggire, quindi... Anzi, direi... Cambiamo direttamente Pokémon davanti e mettiamo... Eh, Grovile di nuovo. Anzi, Corfish, dai. E in caso di lotta in doppio, Corfish, Grovile. Vai. Altro Pokémon selvatico che non mi fa uscire dall'erba. Mannaggia lui. Uno Shroomish. Però con Corfish dovremmo riuscire a fuggire. Esatto. Allora, a sinistra cosa c'è? Un'allevatrice che rompe le balle. Eh... Hai mai sentito di un'allevatrice chiamata Mei? Sì. Ho sentito di un'allevatrice chiamata Mei. L'ho battuta a più riprese. Cara Savanna. Che manda in campo Flirion. Che culo, noi abbiamo Corfish. Eh... Gravammer e addio Flirion, credo. Esattamente. Poi, Lyron. Lasciare Corfish. E tirare un'altra Crabammer. Ok, ha molta più difesa. Infatti non muore. No, Corfish. Niente, è morto. Mi dispiace per te, Corfish. Contro Lyron, direi di mandare Torqual. Fa di prendere un bel po' di punti esperienza ancora. Con un bel lanciafiamme. Bello il Quick Law. Ci fa muovere per primi. E andiamo al livello 34 con Torqual. Sì, 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 conosco. Qui troviamo un Max Ether invisibile. Un E3 Max invisibile. E qui arriviamo all'Istituto Meteo. Prima prendiamo ancora questo strumento che è una Master Ball. Non si sa bene per quale motivo ci sarà Master Ball qui. E davanti abbiamo Grovile. Sì, lasciamo Grovile a questo punto. Questo penso sia un pescatore. Questo ha trascorso anni a cercare un Wishkash. Anni per cercare un Pokémon così comune. E alla fine hai un... Perché dovreste avere un Fluffy? Boh, vabbè ragazzi. Energy Ball. Un paio di Energy Ball dovrebbero bastare. Vai. E addio. Fluffy. Livello 32 per Grovile. Not bad. Assolutamente not bad. E già che questo tizio ha detto che ha speso anni a cercare un Wishkash, direi di provare a cercarlo anche noi, no? Vediamo se tiriamo su Wishkash e siamo fortunati. Se siamo sfortunati come prima. Niente, poi ho liberato di nuovo. Unlucky. Beh, lo useremo come pozione. Vai. Gigadrain. Ecco fatto. Vai, a questo punto andiamo nell'istituto meteo. Salve. I can control the weather. Which weather would you like to see? Ah, questo ci mette il tempo che vogliamo in questo posto. Perché da quello che so spawn ha cast form. Però è molto raro questo percorso, cast form. E quindi possiamo avere le varie... Le varie forme di cast form senza tirarci matti, no? In senta me, singo sai in Scandussi. Sì, fantastico. Entriamo nell'istituto meteo, però. Perché c'è il team acqua. Che come vedete ha buttato giù tutto e sta facendo un casino incredibile. Andiamo, vai. Cosa ci fai qui? Anzi, perché sei qui? Eh, lo vedrai presto perché sono qui. Vanno in campo Crodant. Peccato che non potremmo avere Crodant. È un Pokémon davvero interessante. Andiamo con l'Energy Palla. Allora, Wall Rain. Lasciamo. Grovile. Andiamo ancora con l'Energy Palla. Ah, però, eh? Ah, però! Infamella! Di Wall Rain. Con Raggio Aurora. Allora. Ecco, ritami un po' di PS infame. Livello 33 per Grovile. Ottimo. Allora, abbiamo visto che questo team acqua non scherza affatto. Quindi diamoci una curatina, eh. Tiriamoci l'ultima pozione che ci rimane su Grovile. E abbiamo poi Freshwater, volendo. Quindi possiamo usare questa. E va bene così. Tu sei un allenatore, eh? No. Cosa facciamo? Le data can't fall into the wrong hands. I dati non possono cadere nelle mani sbagliate. Oh no! I wanted to show you something, but now isn't the best time. E questo vuole mostrarci qualcosa, ma ora non è il momento adatto, giustamente, perché c'è il team acqua. E noi dobbiamo batterlo. Vai! Geralt. Che manna in capo anche lui Wall Rain. E il problema di cui Wall Rain fa davvero male al nostro povero Grovile. E infatti Aurora Beam. Mannaggia lui. Andiamo poi di Gigadrain. Buono, curaci un po'. E un altro Wall Rain. Mannaggia a lui. Devo lasciare Grovile e usare subito Gigasorbimento. Sperando di recuperare abbastanza vita e da reggere una sua Raggio Aurora. Mi sa di no. Ok, ho usato Body Slam. Stavo per dire che è culo, ma no, perché mi ha paralizzato. Mannaggia lui. Dove sono le ricariche totali? Non ce l'ho? Non ho le ricariche totali, davvero? Peccato. Niente, qua devo sostituire Pokémon. Mandiamo con Baskin come sacrificio. Un secondo. Vai. Aurora Beam. E lo sapevo, infatti. Non ho voluto mandare su Hello proprio per quello. Andiamo di Brick Break. Pistolacro mi fa malissimo. Brick Break però fa male anche a lui, essendo anche di tipo ghiaccio. Ok, ce la siamo cavata. Con Baskin vedete che alla fine torna utile ogni tanto. Ora curiamoci di nuovo i Pokémon. Curiamo anche Torqual che potrebbe tornare utile in qualche modo comunque. e andiamo a tirarci anche un Fulial su Grovile. Per di più sapete cosa vi dico? Diamo l'Iron Usa a Torqual. Ecco fatto. Così ci liberiamo anche con lo slot nello zaino. Qui non possiamo passare, ma per forza passare di qua. Dobbiamo sfidare l'exergente del team Aqua. Shelly. Are you trying to save the cast form? Stai cercando di salvare i cast form? Troppo tardi. Troppo, troppo tardi. We need the data chip. It's carrying. Ah no, peccato che abbiamo bisogno del chip che sta portando. Con sé. Ok. Shelly. Fammi vedere cosa si fa. Carvania al livello 30. Io userò Energy Ball. Perfetto. E addio. Wall Rain. Ecco, Wall Rain. Un po' più difficile da tirar giù. Andiamo di Energy Ball comunque. Aurora Beam, lo sapevo. E a questo punto Gigadrain. Ecco fatto. Non ho più pipì di mosse erba, come avete notato sicuramente. Ora vediamo chi manda lei. Siamo però a livello 35. Vorrebbe imparare il doppio team. No, grazie. Crowd Hunt. Lasciamo il nostro Grow Wild. E non ho più mosse di tipo erba, davvero. Andiamo quindi di Toxic. Ecco fatto. Io tanto ti ho iperavvelenato. Il mio compito qui è finito. E a questo punto ti manderò Swallow addosso. Che usando volo ti farà pure perdere un altro turno. Vai. Avvelenati. Ho provato a usare il doppio colpo. Volo. Fa discretamente male. Night Slash. Notte Sferza dovrebbe essere. E a questo punto Quick Attack. E addio Crodant. Perfetto. Abbiamo battuto anche Shelly. Eh. Ritirata. Sì, sì. Ritirati, ritirati. Hai vinto questo round. Hai vinto questa battaglia. Recuite. Pronte alla ritirata. Ecco, bravi. Andatevene. Grazie mille. Ci dice questo. What are you doing? Did you scare them away? What I'm doing? I already have the data chip. There is no need for these guys anymore. Ah. Azza. Questo era una spia del Team Magma. Ok, non me lo aspettavo. Broody. Che manne capo ditto. Io manne capo Pikachu. No. No, 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 no. Facciamolo trasformare in... In... Con Vaskin magari no. Facciamolo trasformare in Pikachu. Sì. E tiriamogli un Thunder Punch diretto. Ah no, che sei morto. Mi spiace, caro. Non volevo. E niente, ti è andata male, Brody. Ah ah ah, è troppo tardi. Tempo di ritorno alla base. Sì, Raider. Ok, questo è tornato alla base. A questo punto è stato ristabilito l'ordine nell'istituto Meteo. Salve. Grazie per avermi aiutato. Vorresti imparare ad allenare un cast form? Cambia a base al tempo, certamente. Grazie. Dammi cast form e ragazzi, se volete completare il Pokédex, prendetelo qui cast form perché è rarissimo da trovare. Quindi prendete questo cast form regalato. Questo ci insegna Comete. Allora, Comete io lo insegnerei molto volentieri a Grovile, al posto di garanzia. Perché essendo un attacco di tipo, essendo un attacco speciale, appunto che non mi sa mai, non è niente male al posto di garanzia. Quindi, diamoglielo. Vai. Salve. Finalmente ce l'ho fatta. Ho fatto una roccia che extends the effects of rain, che aumenta l'effetto della pioggia. Allunga l'effetto della pioggia. Per favore, prendila. Dump Rock. E niente, ci dà anche questa Dump Rock. Qui all'istituto studiamo gli effetti diversi del meteo. Abbiamo trovato anche un Pokémon che si concentra tutto attorno a quello, ovvero cast form. Questo può cambiare il meteo dei Pokémon. Noi abbiamo i Pokémon messi molto male, ma ora dobbiamo proseguire a Nord, fino ad arrivare a Forestopoli. Chi ma andiamo davanti? Ma andiamo davanti. Swellow. E tiriamogli anche una curetta, dai. Tiriamogli un'acqua fresca. Ecco, fatto. Vai. Salve. Il mio Tropius quando ritornerà? A tu è un Tropius? Non mica un Tropius? No, un Tailow. Mannaggia. Speravo. Ne avrei fatto davvero male con il mio Swellow. Andiamo di aeroassalto. Ah, non muori. Va bene. Attacco rapido. Perfetto. Wingull lasciamo Swellow. E andiamo di nuovo di aeroassalto. Per me Wingull lo tira giù in un colpo. Niente. Nemmeno. Speravo che Wingull avesse meno difesa di Tailow. Ok, bravo Swellow, non confonderti. E manna in capo Swellow. Contro Swellow? Si lascia Swellow comunque. E andiamo di a fly. Volo. Via. Ha l'uso doppio team, mannaggia a me. Ok, siamo riusciti comunque a colpirlo. E poi usiamo aeroassalto che non fallisce mai. Ecco fatto. Buono. Altro livello per Swellow. Non lo sai? No, non lo so. Non so dove sia andato il tuo figa di Tropius. Oh, caramella rara. Ottimo. E qui abbiamo un'altra allenatrice. Azz. Tosto questa parte del percorso, eh. Tostarella. Vai. Dead pose. It's perfect. Va bene. Questa è una fotografa. Eh, infatti è una pittrice. Che manna in campo Mr. Mime. Va bene. Usiamo volo. Lui si protegge, ma intanto abbiamo usato volo. E se lo becca in faccia ora. Roleplay. Si è presa la mia abilità. Vabbè, non gli servirà molto. Attacco rapido. E addio. Poi, sudo vudo. Tipo roccia. Lasciamolo. Abbiamo un alacciaio pronto per lui. No! Ho sbagliato. Ho cliccato male. Vai. Alacciaio. Vabbè, non gli avremmo fatto molto danno in ogni caso. Sucker Punch. Fa male. Ok. Dovemmo essere più veloci di lui. Di lui ora. Penso che con un attacco rapido forse ci siamo a buttarlo giù. Perfetto. Buono. Buono, buono, buono. Smirgle. Si cambia un po' come a questo punto. E mandiamo con Baskin. Contro Smirgle. Quelli usa una bella breccia in faccia. Vai, break break. Addio. Oh, ti sei mosso? Mi spiace. Altri allenatori? No. Siamo arrivati finalmente a Forestopoli, ragazzi. Faticace questo episodio. È durato anche tanto. Però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato i percorsi 118 e 119. Abbiamo catturato nuovi Pokémon e abbiamo completato anche l'Istituto Meteo combattendo sia contro il team Hydro sia contro il team Magma. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perderti i prossimi caricamenti. da Glaciosphere è tutto, al prossimo video!